Presentato ufficialmente il momento che vedrà l'inaugurazione del nuovo centro di raccolta intercomunale a servizio a Sant'Angelo in Pontano, a Gualdo, Monte San Martino e Penna San Giovanni. Questi quattro comuni potranno andare in questo nuovo impianto situato nella zona industriale di Passo Sant'Angelo per poter smaltire i loro rifiuti. Soddisfazione da parte dei sindaci. Sì, grande soddisfazione perché abbiamo portato a termine un lavoro durato diversi anni che ha incontrato anche le difficoltà legate sia al sisma prima e al Covid e poi. Quindi chiaramente maggiore soddisfazione visto il particolare momento che stiamo vivendo. Riteniamo che questo sia assolutamente un valore aggiunto doppiamente per la collaborazione tra comuni e anche per il fatto che andiamo a dare a chi vive in queste zone interne anche abbastanza disagiate un ulteriore servizio di fondamentale importanza per la vita. Un lavoro che parte da lontano con un impianto di ultima generazione che appunto come ha detto sarà servizio di una comunità molto ampia. Una comunità che guarda anche ad altre possibili realizzazioni come ad esempio il centro del riuso. Sì esatto, questa è stata un'ulteriore conquista diciamo chiamiamola la ciliegina sulla torta che fa di questo centro un centro non solo all'avanguardia ma anche dotato non solo di raccolta ma anche di riuso. Quindi destinato a ricevere tutti quei beni che potrebbero finire nella filiera del rifiuto e che invece rifiuti non sono. Ritengo che questo sia di fondamentale importanza soprattutto in queste aree proprio per effetto del sisma. Il Cosmari continua nel suo lavoro capillare sempre a fianco dei comuni soci e ovviamente a servizio di tutti i cittadini. Questo è il nostro lavoro, il nostro compito. Non ci facciamo distrarre molto da quello che avviene attorno, dobbiamo fare il nostro lavoro tutti i giorni. E questo è importantissimo. Abbiamo oggi avviato un impianto che era l'ultimo della provincia per quanto riguarda i centri di raccolta. Oggi possiamo dire che l'intera provincia di Maserata è servita a tutti i centri di raccolta. Quindi chi è comprensoriale come questo, chi singoli come i comuni maggiori. Però è un motivo di grande orgoglio, credo, anzi sono certo che questa è di nuovo un'avanguardia che fa sì che Maserata sia anche in questo punto la prima.